Siamo con Giuliano Samberai, campione nazionale albanese, oggi terzo alla popolarissima. Giuliano raccontaci questa volata. Sono lavorata abbastanza veloce, appena partita ero messo bene, dopo sono rimasto un attimo chiuso. Sono dovuto ripartire di nuovo, ormai avevo perso quei metri e cercavo di rimontare, però non sono riuscito. Durante la gara sei stato anche vittima di Gigi Catena, puoi raccontarci, la prima prima dell'arrivo, non sono venuta addosso, non sono a ringraziare tutti voi, saluto a Giorgio Fante con la gloriosa maglia dell'Unione. Quindi ci resta anche un po' di chilometri, magari così. Sì, ma neanche tanto, comunque grazie ai giusti della mia squadra, che sono stati in una gara a sportarmi, abbiamo portato da anche subito, abbiamo portato tutta la gara. Quali obiettivi speri di raggiungere per quest'anno? Una centesima, popolarissima, ma ha vinto il ciclismo, ha vinto questo sport che ci piace vedere e soprattutto non contare.